Doveva essere un semplice controllo per accertare il rispetto degli arresti domiciliari a cui era sottoposto un 37enne pregiudicato residente a Caltanissetta, ma si è trasformato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. L'algerino Murad Kassemi ha infatti tentato di disfarsi di un panetto di hashish lanciandolo dal balcone mentre un carabiniere saliva nella sua abitazione. La scena è stata però vista dall'altro carabiniere che aspettava in strada. Lo stupefacente del peso di 93 grammi è stato recuperato immediatamente e sequestrato. Da una successiva perquisizione domiciliare, con l'aiuto di altri carabinieri giunti in rinforzo, non è stato rinvenuto altro stupefacente ma 1.400 euro in contanti. Anche il denaro è stato sequestrato in quanto ritenuto provento dell'attività di spaccio. E ancora gli agenti della sezione volanti hanno segnalato uno straniero con cinque dosi di hashish trovate nella scarpa, nel corso di un servizio di controllo in viale della regione. Il pakistano 27enne che transitava a piedi, già noto per i suoi precedenti di polizia, per reati inerenti agli stupefacenti, è stato perquisito. I poliziotti hanno così rinvenuto, celata nella scarpa sinistra, una stecca di hashish avvolta in cellofan, dalla quale si sarebbero potute ricavare cinque dosi al consumo. L'uomo è stato quindi contotto in questure dopo gli adempimenti di rito segnalato per uso personale di stupefacenti.